E' frenetica l'attesa degli ex dipendenti ITR che da alcuni giorni sono senza reddito dopo l'interruzione del pagamento della mobilità in deroga. Il Consiglio regionale ha approvato la proroga del trattamento per ulteriori cinque mesi ma si attende il decreto per le liquidazioni. Sono ancora in attesa di ottenere lo sblocco del pagamento della mobilità in deroga agli ex lavoratori dell'ITR che venerdì scorso hanno presidiato il Consiglio regionale. Si tratta di circa 700 persone rimaste da anni senza lavoro dopo il fallimento dell'azienda Tessile che ha segnato la storia del Made in Italy nel mondo. Non resta ora che la speranza legata al prolungamento della mobilità ha già scaduto per una gran parte degli ex dipendenti. Il Consiglio di Palazzo da Immo, su proposta della consigliera Filomena Calenda, nell'ultima seduta ha approvato un ordine del giorno concernente la concessione di un periodo di proroga di cinque mesi del trattamento di mobilità in deroga. I fondi per venire incontro a tale necessità, secondo le rappresentanze dei lavoratori, ci sono. Occorre solo che l'assessore al lavoro e al welfare Luigi Mazzuto trasmette il decreto all'Inps che provvederà quanto prima alla liquidazione dei fondi agli interessati. Un'attesa frenetica di una piccola boccata d'ossigeno per tante famiglie. Solo nella città di Sernia sono circa 200 le persone che nel passato hanno lavorato nel polo industriale di Pettoranello e in diversi casi anche due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ma non c'è solo il tema delle politiche passive a preoccupare i sindacati e gli stessi lavoratori. Ci sono anche e soprattutto i ritardi legati alle cosiddette politiche attive per il lavoro, legate al riconoscimento dell'area di crisi complessa per il distretto produttivo che va da Campochiaro fino a Venafro. Non c'è ancora nessuna certezza circa la possibilità di ricollocare il personale in altre aziende, poiché, a parte alcune eccezioni, imprenditori disposti ad investire in Molise finora non se ne sono visti. Anche e soprattutto a causa della lentezza dei processi burocratici. Grazie.